Lorenzo Salvadori, la prima tappa del campionato italiano velocità nella categoria Superbike è andata in archivio sul circuito di Misano in gara 1 e gara 2 hai raccolto un quarto posto ed il terzo la tua partecipazione con il team Nuova M2 Racing in sella all'Aprilia è stata comunque una sorpresa per tutti Sì, sono felice di essere tornato sul podio è stata decisa questa cosa grazie ad Aprilia, al team e a Fausto è stato proprio definito tutto il giorno prima di girare il giovedì e infatti comunque è stato un weekend positivo Appunto in gara 1 c'è stato questo sorpasso nel finale che ti ha pregiudicato il podio di Tamburini un tuo rivale comunque storico Chiaramente essendo partito tutto così all'ultimo diciamo non eravamo come motore, eravamo motore stock proprio di serie non c'erano le specifiche del campionato che sto facendo adesso e infatti purtroppo mi ha passato sul rettilineo ho provato a contrastarlo alla penultima cura però purtroppo non siamo non siamo riusciti a mantenere la posizione però dai, il giorno dopo sono riuscito a fare il podio Ti alternerai quindi oltre che al CIV con il campionato mondiale di Moto E che appunto è slittato dopo l'incendio che è avvenuto a Aeres? Purtroppo a Aeres è stato un disastro mi ha preso fuoco tutto, tutte le moto, tutto l'abbigliamento di tutti i piloti che erano all'interno della tenda il campionato è stato salvato si correrà, la prima gara sarà il Saxering e adesso per il momento quindi farò queste due cose grazie bello